Finalmente è arrivato e sono uno dei pochi che è il nuovo DJI Spark. E' il nuovissimo modello della DJI, questo piccolo drone. Vediamo, la scatola all'interno contiene una mini valigetta che conterrà sicuramente il drone e una piccola scatolina che conterrà sicuramente gli accessori. Abbiamo il cavo usd per la ricarica, il solito libretto delle istruzioni per la batteria, libretto di istruzioni e vari libretti di istruzioni. Sotto abbiamo il caricabatterie e si sono dimenticati l'adattatore e non va bene. Allora, questo DJI Spark ha un prezzo di 5,99€ nella versione normale e 7,99€ nella versione combo con batteria in più e radiocomando. Pronti? L'interno della solita gel silica, una sola confezione di eliche di ricambio, quindi un paio e poi è arrivato lui. Eccolo qui, il nuovissimo DJI Spark nel colore White Alpine. Ok, faccio vedere un po' da vicino. Un punto pesa solamente 300 grammi e qualcosa, ho preso delle eliche. E' nella versione White Alpine. Davanti troviamo il sensore anticollisione, è un sensore anticollisione 3D. E' famoso per questo nuovo gimbal, un piccolo gimbal due assi per stabilizzare le riprese. Cosa dire? Allora, sotto c'è la batteria. Allora, il sensore della fotocamera è un sensore che è due terzi. La batteria per toglierla bisogna tirare. Ok, queste due. Ancora è veramente molto leggero. Fa veramente impressione perché è leggerissimo. Sotto... Abbiamo la pellicola? No, non l'abbiamo tolta. Troviamo la piccola fotocamera per il mantenimento della posizione e due sensori diciamo anticollisione che si trovano in basso. E' veramente carino e lo proveremo fuori all'aperto. La batteria è inserita. Ok. 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 Ok.